Ciao a tutti voi. Cari spettatori del nostro canale. Oggi abbiamo una storia incredibile da condividere. Siete pronti? Bene. Allora iniziamo. Immaginate un'amicizia straordinaria tra due donne eccezionali. Paola Cortellesi e Laura Pausini. Queste due talentuose artiste condividono una connessione speciale che va ben oltre il lavoro. Quando i riflettori si spengono e si ritrovano lontane dai set. Sono inseparabili. E oggi vi sveleremo l'incredibile modo in cui è nata questa profonda amicizia. Paola Cortellesi. L'attrice di 49 anni. Ha raccontato questa avventura in una recente intervista a Radio 2 Social Club. È una storia che vi farà sorridere. Ve lo promettiamo. Paola rivela come si è iniziato tutto. Senza mezzi termini. A un certo punto. Laura Pausini mi è imboccata in casa. Dice con un sorriso. Sì. Avete sentito bene. Imboccata in casa. E non finisce qui. Paola. Con il suo solito talento per l'imitazione. Ci delizia persino con l'imitazione della voce di Laura Pausini. Questo è proprio un racconto che non volete perdervi. Ma c'è di più. Entrambe hanno dato alla luce delle figlie nel 2013. Paola ha chiamato sua figlia Laura. Per ragioni personali. Mentre Laura ha scelto di chiamare sua figlia Paola perché le piaceva il nome. Un caso incredibile. Vero? Laura. nella sua tipica gentilezza. Ha preso l'iniziativa di mettersi in contatto con Paola. Giorgia. Un'amica comune. Le ha dato il numero di telefono di Paola. Chiedendo persino il permesso per farlo. La risposta di Paola? Ma certo. Mica la Pausini è una stalker. Una risposta che dimostra subito quanto questa amicizia sia genuina. Dopo un mese. Laura ha mandato un messaggio a Paola. Ricordandole che avrebbero dovuto vedersi. Ma ciò che è davvero incredibile è che un giorno. Laura è letteralmente entrata a casa di Paola a Roma. Le loro figlie si sono subito affezionate e così hanno fatto anche loro due. A quarant'anni. Paola ha trovato una nuova amica. Una compagna d'anime. Ecco come nascono le amicizie più straordinarie. E questa è solo l'inizio della loro storia insieme. Se siete affascinati da queste storie di amicizie autentiche e desiderate rimanere aggiornati su storie simili e contenuti interessanti, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Cliccate sul pulsante di iscrizione qui sotto e unitevi alla nostra community. Non ve ne pentirete. Grazie per averci seguito e a presto.